andiamo cominciamo bene bravo anche se la centrale è un buon riflesso e facci 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 dai 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 cominciamo a guardarle andiamo sempre mamma che c'ho feca non possiamo imparare solo con le dritte dai forza vuoi una foto del pallone allora vai a prenderlo bella questa e quando prende lo spigolo c'è niente a fare facci o buono è vai dai tommy non mi è piaciuto sto giro è il prossimo meglio